Chi sei a segreteria, chi da seria, chi da normale, chi da pulita, chi sei proprio la classica prova di maturità. Basta, tutti ti mingiate, che non si capiva niente, i cristiani che telefonano come l'assassino, chi sei in linea seria, per gli amici e basta, ho capito di fare? Perciò lascia bello un messaggio, cerca di essere serio magari, va bene? Ciao, bello, ciao!